Un gioco per un sorriso, dona un gioco e facciamo festa insieme per promuovere la consapevolezza sull'autismo e questo è il titolo della straordinaria iniziativa di solidarietà e di inclusione sociale tenuta dall'associazione genitori autismo Ischia presso il grande parco giochi del Paris Park dove sono stati davvero tantissimi gli schitani, adulti e bambini che con la loro presenza hanno contribuito all'eccezionale riuscita dell'importante iniziativa, tra giochi confiabili, truccatrici che trasformavano i volti dei bambini in protagonisti dei cartoni animati, personaggi della Walt Disney in maschera, bolle di sapone e baby dance, il divertimento è stato assicurato per ore e ore ai bambini che hanno affollato il parco giochi schitano, tantissimi sono stati anche i giochi donati all'associazione e che andranno ad arricchire ulteriormente la sede associativa all'isola che non c'è dove quotidianamente bambini e ragazzi autistici svolgono tantissime attività come la musicoterapia e l'arteterapia.